Parleremo di varici, le vene varicose, quelle che danno tanti problemi non solo da un punto di vista estetico ma direi soprattutto funzionale, anche se l'aspetto estetico magari è quello che colpisce maggiormente. Le tecniche di terapia non conservativa, quindi demolitiva più moderne e le ultime, quelle che stanno avendo più sviluppo, ma poi ovviamente l'industria ha messo a disposizione anche altre cose perché si parla di device che utilizzano il vapore, si parla di iniezioni di colle, ma il principio è sempre quello della demolizione. Sono comunque tutte delle tecniche che chiudono quella... Sì, diciamo per una questione di razionalità hanno come massima aspirazione quella di ottenere i risultati di uno stripping ben fatto. Perfetto, noi questa sera da lei ci aspettiamo anche una breve ma esauriente lezione della nostra idraulica che è sofisticata per quanto attiene tutto, anche e soprattutto gli arti inferiori che sono quelli su cui ci concentriamo per capire quanto in realtà semplice ma sofisticata, come lei ha ben spiegato, che richiede una grande esperienza, senza una grande conoscenza, si ha la metodica sciva che può essere fatta, è una non chirurgia insomma diciamo, fatta anche in un regime di dei hospital. Sì, anestesia locale pura, sono dei punti di interesse chirurgico molto limitati che si basano su una cartografia emodinamica ben precisa che richiede esperienza per essere preparata nel modo corretto e diciamo che quanto più noi capiamo del sistema che abbiamo di fronte, quanto più lo comprendiamo, quanto più la nostra pianificazione terapeutica ci poterà risultati efficaci. Benissimo, ci parla un po' allora delle nostre varici per farci capire come funzionano e come iniziano talvolta a essere insufficienti, a funzionare poco e a manifestare poi quelle nodosità tipiche delle cosiddette vene varicose. Vorrei dire che il sistema venoso è comunque un sistema che ha una funzione nobile, perché se da un lato le arterie si occupano di portare i nutrimenti ai tessuti, una volta che i tessuti hanno svolto la loro funzione metabolica, hanno bisogno di essere drenati, purificati di tutti quelli che sono i prodotti del metabolismo cellulare e anche hanno bisogno di un corretto drenaggio di tutti i liquidi. Per cui il sistema arterioso e il sistema venoso hanno la stessa nobiltà, sono necessari entrambi, tant'è che possiamo avere delle lesioni trofiche, quindi delle ulcere, sia per un difetto di vascolarizzazione arteriosa, ma anche per un difetto di drenaggio venoso. Il sistema venoso quindi ha una funzione nobile, le funzioni sono esattamente tre del sistema venoso. Il drenaggio dei tessuti, come avevo appena accennato, la termoregolazione e anche il precarico del cuore di destra, perché un corretto drenaggio venoso permette al cuore di riempirsi adeguatamente per poter reimmettere poi i volumi di sangue in modo corretto nel sistema arterioso. Per cui le funzioni sono queste, precarico cardiaco, termoregolazione e drenaggio dei tessuti. Quindi sono importantissime, cioè è giusto che ci siano e che siano in buone condizioni. E parliamo di insufficienza venosa quando una o tutte di queste funzioni non è in grado di assolvere a una o tutte di queste funzioni.